è dal mattina che si vede come uno se va alla giornata buongiorno a tutti come andiamo guarda qua dove sono anzi e poi ve lo spiego un'altra volta va comunque buongiorno a tutti e sono cioè sveglio dalle quattro di mattina perché purtroppo qui alle otto e mezza alle nove massimo zack e te sono parto troppo stanco bene comunque vado su alto 7 e level che è proprio qui di fronte aspetta vi faccio vedere il casino ecco fatto ma cosa faccio così presto la mattina sveglio perché mia moglie dice che quando ti svegli alla mattina vai subito in palestra prima della colazione è perciò mi tocca fare questo ora devo andare in palestra da prima ho dovuto comprare qualcosa non vi dico cosa che sono cose intime va bene allora cosa devo fare io a pucca e te altro che pucca e te bella e tranquilla ecco lì dietro c'è il base quello lo fanno vedere in tanti video su youtube potete andare cercarlo base base a pucca pucca town anche ma non è male quello molto conosciuto fra i nomadi digitali diciamo ecco 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 Grazie a tutti Oh, sorry Morning Beh, intanto vi faccio vedere ancora la piscina Mia moglie arriva dopo Che lei è il mio coach today Vada qua Sussu Dali, you can do it Grazie a tutti Ah, capito, capito Che fusto che sono, eh E ora, spaghetti Guarda cosa mi fanno mangiare Guarda, yogurt Un pochettino, è solo tanto Guarda, grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti.